We of Tranovcia Revisora,GI.Colo Venga, Signor Cappatonda. Avanti. Buonasera. Si accomodi. Buonasera. Dunque, perché ha chiesto questo colloquio? Ma, sto sprofondando, bello, ok, vai metto così, metto così, la vedo comoda, il bello della seduta psicoanalitica, allora, no, prima di tutto per fare una seduta psicoanalitica gratis, questo è uno dei motivi, il primo, però il più, il secondo più importante è che io ho la sensazione che la mia scelta di fare, di lavorare nella creatività, di fare il comico, sia il frutto di un problema mentale, o possa essere il frutto di un problema mentale, di un disturbo psicologico che ho da sempre. Come mai è venuto questo pensiero? Cioè, è stata qualcosa di suo o gliel'hanno fatta notare in casa, in famiglia ad esempio? No, lo penso perché ho scritto il mio libro e nel mio libro ho ripercorso un po' gli eventi della mia vita e ho notato che nella prima fase della mia vita io ho avuto un rapporto altalenante con la realtà, nel senso che la realtà che vivevo familiare era piuttosto dolorosa perché i miei genitori litigavano molto, o anche noiosa perché la mia città era molto noiosa. Ho provato a, per dire, quando provavo a fare sport risultavo fallimentare, diciamo, nel mondo reale. Poi ho visto la prima volta Ritorno al futuro e ho detto io voglio vivere nel mondo del cinema, voglio fare questo lavoro. Quindi penso che il fatto di lavorare nel mondo della creatività sia un modo per sfuggire al mondo reale e quindi penso di avere un problema con con la socialità, con le persone. Mi spieghi meglio, è qualcosa di cui si è accorto recentemente o è un dubbio questo di avere un problema mentale che si trascina da te? Io sento comunque di avere un problema più che con il rapporto col mondo reale, cioè io voglio vivere in una bolla di fantasia, cioè di evasione. Ecco, io da quando ho scoperto che esiste il virtuale, diciamo, sto cercando di vivere in quel mondo il più tempo possibile perché la realtà mi sembra un po' dolorosa, in un certo senso. Ma lei ha sempre avuto la passione per la comicità, per l'umorismo, per cercare di tenere abbada un po' la realtà con questa forma oppure nella sua infanzia c'erano altri interessi? Ma ho provato a fare cose tipo appunto come dicevo a fare sport, avevo interessi, però appena ricevevo un appena fallivo in qualche cosa mi rifugiavo nell'evasione, nell'umorismo sì mi è sempre piaciuto, vedevo film comici ma anche film horror. Ecco, una delle prime cose che ho provato a fare come artistiche, se vogliamo chiamarle così, è stato quello di creare mini film horror per spaventare i miei genitori e i miei amici, terrorizzarli, solo che poi spesso il risultato è che ridevano, quindi non ottenevo il mio... E quindi questa cosa che lasceva come una sorta di rivalsa, di vendetta, insomma lei mi ha appena detto che li utilizzava per spaventare. E questo fatto che invece avesse un effetto ridicolo? Questo fatto che avesse un effetto ridicolo mi ha spinto a capire che probabilmente non volevo fare... non mi venivano bene gli horror e allora ho detto buttiamoci nella comicità perché mi viene meglio prendere in giro la realtà piuttosto che comicamente, piuttosto che seriamente. Sembra tanto che lei abbia un problema con il controllo, con la necessità di controllare la realtà, di prenderne le distanze, di governarla, forse perché è inquietante, è ansiogeno. Sì, sicuramente il fatto di poter creare video, di poter inventare altri mondi mi porta a poter controllare tutto il processo, infatti io sono uno che segue il processo creativo dalla scrittura, quindi dall'ideazione fino al doppiaggio, al montaggio soprattutto e in questo modo plasmo un po' la realtà e la controllo e poi la do in pasto allo spettatore, ma non prima di averla ipercontrollata e modificata. Ma torniamo un pochino a questo tema del controllo, può essere che alla fine lei eserciti un controllo proprio perché i suoi conflitti ancora non li ha risolti. Sì, io non so quali sono i miei conflitti, volevo anche capirlo con lei, nel senso che so di avere dei problemi ma esattamente non so quali sono, quindi per ora ho creato questo lavoro di comico creativo come se fosse una sorta di cura amatoriale inventata da me che mi permette di sfogarmi in un certo modo e curarmi dai miei problemi reali e fortunatamente sta funzionando, però non so fino a che punto poi funzionerà. Ma che rapporto lei ha con la gente, con le persone che la apprezzano, che la seguono, che la stimano? Io ho un rapporto, ricerco sicuramente il riconoscimento delle persone e l'apprezzamento, però lo faccio sempre in maniera molto controllata, io penso che il video, il fatto di stare già nel mondo del video sia già un modo per schermare un possibile contatto fisico con le persone come questo che abbiamo oggi per esempio. Io sono anche molto in ansia perché so che ci può essere una reazione immediata a quello che sto vivendo, mentre se facessi un video di questa cosa io nel montaggio magari taglierei delle parti che non mi piacciono, quindi di base ho un rapporto di bisogno di riconoscimento del pubblico però ho anche paura di eventuali fallimenti, ovviamente. Quindi diciamo che se lei potesse in questo momento, in questa sede, lei taglierebbe qualcuno? Taglierei qualcuno? Ha usato lei il termine? Ti posso tagliare la realtà? Sì, modificherei il video cercando di scegliere le parti migliori, però non sono un assassino, non so se lei è abituato ad avere assassini. Beh però comunque è senz'altro un personaggio seriale, ha una mente seriale, è un comico seriale. Ecco, la mia sensazione è che magari se non avessi fatto il comico e non avessi potuto sfogare, curare i miei problemi con la realtà forse sarei potuto anche diventare un serial killer volendo. Certo che la sua posizione rispetto alla gente, alla realtà, è un po' ambivalente. Cioè da un lato vuole tenerli a distanza e per questo poi predilige esprimere la sua comicità in video e non in interventi diretti con il pubblico. Dall'altra però non può farne a meno. Mi viene un po' da pensare che lei sia una persona che si incontra per la strada, un suo fan, che le chiede un selfie, un bacio, un abbraccio, qualcosa del genere, sia infastidito. Poi rischi di correre in casa a vedere se c'è un like in più all'ultimo videoprodotto. Beh, quando incontro i fan per strada non è che sono infastidito, però sicuramente c'è un dislivello di empatia tra quella mia e quella del fan, perché c'è da parte del fan una grande empatia nei miei confronti perché mi conosce, io invece non so chi sia questa persona e quindi sono diciamo abbastanza imbarazzato anche, più che infastidito. poi dipende se mi dicono, ma c'è, se mi abbracciano, mi scuotono, mi leccano, allora potrei, cioè mi infastidisco, però di base è un rapporto, sì, sereno. Però è vero che poi sono molto sensibile al riscontro sul web, perché è il mio unico, è la mia unica fonte di riconoscimento, i commenti, i like sicuramente sono, sono per me l'unica fonte di riconoscimento, perché il pubblico live non ce l'ho. Ma che cosa secondo lei le ha dato questa scelta e che cosa le toglie? La scelta di non avere un contatto diretto in presenza. Mi dà, che mi permette di continuare a vivere e a fare il mio lavoro. e anche con buoni risultati. Mi toglie sicuramente un rapporto con la, con le persone più, più umano, forse, un contatto più fisico, più, più umano con, con la gente. Penso che sia anche una cosa che vale anche per tutti, perché siamo tutti un po' dentro questo mondo virtuale, quindi sempre alle prese con un contatto sempre meno, meno fisico, meno umano. Quindi quello che mi toglie, diciamo, è l'abilità di barcamenarmi meglio nel mondo reale. Quindi questa scelta però le toglie anche una buona quota di ansia. Ah, esatto, sì, sicuramente, sì, sì, perché l'ansia, io non ho mai fatto per dire un live, uno spettacolo live, proprio perché se io salissi su un palco e la gente non apprezzasse il mio lavoro, io non potrei controllare quel momento, non potrei, se non ridessero per dire, io non saprei come montarli, cioè come tagliare questa cosa, come controllare questa cosa. Ecco, che cosa accadrebbe se il suo pubblico, che tanto la ama, le voltasse un po' le spalle, non la trovasse più divertente? C'è un pensiero che le corre ogni tanto? È un pensiero che ricorre e per questo è lo stimolo a impegnarmi costantemente nel cercare invece di fare cose sempre più originali, più creative, più interessanti, anche per stare dietro all'evoluzione che il mondo del web e dei social e dell'internet in generale ha attualmente, quindi forse quello che mi muove è anche proprio l'ansia da perdita di pubblico, in un certo senso, non solo, però anche sicuramente, quindi perché sarei perso, se non avessi più un pubblico farei le cose per me stesso e poi... Ma chi era il suo pubblico da bambino? Io da bambino avevo i miei amici e anche i miei genitori, sicuramente, ma erano loro il mio pubblico. Ma le capitava di mettere in scena dei piccoli spettacoli, come da tradizione in altri? Le prime cose che facevo erano sempre con la telecamera, c'era sempre di mezzo una videocamera, già dai nove anni in su, ho chiesto una telecamera da quando avevo sette anni, mi è stata regalata a nove e ho iniziato a fare video, quindi il mio pubblico erano i genitori, gli amici e c'era questa appunto, inizialmente, questa discrepanza tra l'horror e il comico. Poi a un certo punto mi sono buttato solo sul comico e a quel punto ridevano tutti, anche se alcune cose volutamente comiche facevano meno ridere degli horror che erano trash e quindi facevano ridere per contrasto. Ma la sua comicità, pensa e ritiene che sia spontanea o costruita? Sicuramente c'è una parte di costruzione molto meticolosa nelle fasi del processo, diciamo realizzativo, ma c'è anche un aspetto molto spontaneo e molto incontrollato nella gestione delle idee per dire l'ispirazione, lì mi viene molto spontanea l'ispirazione su tante idee, quindi è un mix di spontaneità e ricerca della perfezione o della costruzione della gag. Provi un pochino a spiegarmi in poche parole come nascono le sue figure, la sua comicità, le sue battute, i personaggi. Io penso che nasce tutto dalla voglia di destrutturare, di rompere, di comunicare un disagio, in un certo senso, un mio disagio. Quindi faccio una gag per mettere alla berlina una realtà che magari mi prendo in giro, che magari non mi piace o anche per comunicare un messaggio che mi sta a cuore in quel momento. I personaggi ad esempio nascono sempre da cose che ho visto, per parenti che ho avuto, che ho conosciuto, però c'è sempre qualcosa che io prendo come base e poi vado a destrutturare, a distruggere. A me piace molto lavorare sulla destrutturazione dei linguaggi precostituiti ed è lì che poi vado a farne la parodia, a farne la presa in giro. E la seconda volta che oggi mi cita una parola un po' violenta, cioè adesso parla di distruggere, prima mi ha parlato di tagliare. Pensa di essere una persona aggressiva. Se avessi? Si pensa di essere una persona aggressiva? No, no, non penso di esserlo, sto cadendo di nuovo, aiuto. No, non penso, penso che ho dei momenti in cui magari mi arrabbio perché le cose non vanno come dovrebbero, però di base sono una persona che ricerca la calma, la tranquillità e la voglia di stare sereno, in un certo senso. Però non ama la realtà. Però? Non ama la realtà. No, no, l'aggressività da un lato mi spaventa perché comunque fa parte anche di un... mi fa venire in mente la lotta, per dire, la lotta fisica, che è una cosa che a me non piace per nulla perché mi porta proprio nel mondo del reale più totale. quindi io cerco sempre... quindi l'aggressività la vedo sempre come qualcosa da rifuggire. Sì, ce l'ha detto anche prima, cioè in fondo questa modalità di fare, di spostare tutto sul virtuale è qualcosa che le permette di tenere un po' a base i conflitti. Cioè prima anche mi ha citato il problema dei genitori che litigavano, ad esempio con i genitori che litigavano lei che tipo di posizione aveva? Cosa pensava quando li sentiva o li vedeva litigare? Beh, io soffrivo moltissimo perché sentivo di essere il motivo del loro litigio. Cioè in qualche modo pensavo che il fatto che loro litigassero dipendeva da me e poi mia madre, cioè non è che me l'ha confermato, però comunque i miei genitori si sono messi insieme e si sono addirittura sposati perché io sono nato. Quindi in quel momento io sono la causa della loro fantastica storia d'odio. Io nel libro descrivo la storia dei miei genitori fantastica perché loro si odiano costantemente da quando sono nato e stanno insieme e continuano a non separarsi pur odiandosi costantemente e io mi sento un po' la causa di tutto ciò. La causa è un bel fardello questo, pensare di essere comunque responsabile di un conflitto. Cioè lei tanto riesce a fuggire il conflitto nella sua professione perché proprio non lo sopporta, non sopporta il litigio, non sopporta... Tanto è cresciuto con questa posizione assolutamente scomoda. Ma se non avessi fatto il comico, mai pensato a cosa avrebbe potuto fare? Se non avessi fatto il comico, beh è una bella domanda perché probabilmente appunto avrei dovuto sfogare comunque questo conflitto in qualche altro modo. Uno dei lavori che mi piace molto è il tassista perché sono molto bravo a orientarmi per le strade quindi probabilmente avrei potuto fare il tassista e poi basta, credo solo il tassista. Il tassista rigorosamente con un pannello di plexiglass tra i sedi davanti e quelli dietro però? Sì, sì esatto. Non tanto per le persone, per incontrare persone, ma quanto per muovermi e conoscere bene tutte le strade della città che mi reputo molto bravo nell'orientamento. Quindi sarebbe stato un tassista che non aveva clienti. Clienti da tenere bene a distanza. Sento un po', ma visto che lei saprà oramai tutte le nostre funzioni cerebrali vengono descritte in termini neuroscientifici, che cosa mi dice se io le cito dei lavori recenti in cui si identificano i centri della comicità con quello che si chiama il circuito della ricompensa dove c'è la presenza di un gran numero di recettori per gli oppiace, insomma, in fin dei conti ridere la scarica che deriva da una risata è paragonabile a una sostanza. Beh, su questo sono d'accordo perché comunque ogni volta che io ho l'ispirazione, ogni volta che faccio un video, ogni volta che creo una nuova idea, ricevo una ricompensa sotto forma di scarica, di qualcosa che mi dà sicuramente piacere. Ed è il continuamente cercare nuove idee, nuove idee originali diventa poi una sorta di droga e dipendenza. Quindi mi trovo perfettamente in linea con questa cosa. Adesso le farò alcune domande perché volevo riprendere un lavoro che ho visto pubblicato da una rivista prestigiosissima che è il British Journal di Psichiatria in cui hanno preso 500 suoi colleghi inglesi e comici, gli hanno proposto un questionario e dall'esame di questi 500 soggetti è venuto fuori che i comici condividono alcuni tratti schizofrenici con i malati e alcuni disturbi di personalità. La prima caratteristica che è saltata fuori, ad esempio, è credere in situazioni paranormali. Lei che rapporto ha con ciò che non è concretamente reale, con il mondo dell'articolo? Io non è che credo ai fenomeni paranormali, però ci spero in un certo senso. Perché comunque mi danno una sorta di possibilità che esista un mondo che vada oltre quello fisico e che sia sconosciuto e affascinante. Quindi è una posizione, così, un po' una speranza. Però non è che ci credo perché non ho... ci crederei se avessi avuto delle prove. Ecco, non è mai capitato di così sganciarsi un po' dalla realtà, nel senso di perdere il contatto. Di identificarsi così tanto con i suoi personaggi, da far fatica a ritornare alla sua vera identità? No, non mi è mai... no, ho sempre mantenuto il controllo, però mi piace molto perdermi all'interno di un personaggio. Cioè, entrare in un personaggio per poter essere quello che non posso essere nel mondo reale. Perché la possibilità di fare mille personaggi è un qualcosa che riesce a esprimere la mia natura di essere complesso, cioè comunque di persona complessa, e quindi di esprimere tante possibilità che ho, cosa che non posso fare nel mondo reale. Quindi mi aiuta molto e mi piace. Il secondo dato che è emerso da questa ricerca è che spesso i comici fanno fatica a mettere a fuoco i pensieri. Beh, questo non mi... no, non mi risulta, nel senso che io sono... cioè, li metto a fuoco, però perché nel mio lavoro devo pensare molto, quindi devo essere in grado di metterli a fuoco, altrimenti non saprei cosa... E come lei ha una scansione della giornata sulla creatività, Capita quando capita, o è un creativo seriale, sto pensando a Stephen King, a Simonon, che si alzavano al mattino e producevano... No, la disciplina in certi casi mi manca. Io, diciamo che sono uno che riesce a creare nei momenti in cui non voglio farlo, quindi mi viene l'ispirazione, e quando sto con gli amici, quando sto al bagno, quando mi faccio la doccia, oppure nei momenti di estrema pressione, in cui sono talmente sotto pressione da parte di un committente che mi dicono, devi consegnare quell'idea domani, e allora io mi spremo le meningi e creo qualcosa. Faccio più fatica invece a svegliarmi la mattina e dire, adesso mi metto a inventare qualcosa, soprattutto ultimamente questo. Terzo punto si chiama anedonia, cioè i suoi colleghi sembrerebbero poco capaci di provare piacere, rifugirebbero anche un po' dall'intimità, in parte questo ce l'ha raccontato. Beh, io no, io allora nell'intimità, no, provo piacere, mi piace provare piacere, quindi non sono uno che sfugge al piacere. Faccio fatica a trovare persone con cui farlo, nel senso con cui, cioè, ci vuole tempo per trovare qualcuno con cui entrare in una sorta di intimità, proprio perché ho probabilmente uno scudo verso appunto il mondo, e quindi prima di entrare in confidenza e in intimità e provare piacere ci metto più tempo. Però di base non sono, cioè, mi piace questa cosa, quindi non mi riconosco tanto. Devo dire che fino ad ora mi ha confutato questa illustre ricerca. L'ultimo punto, e che forse anche questo sarà da confutare, è una tendenza antisociale. Antisociale? Antisociale. Non associale, nel senso che un po' associale, è un po' ritirato dalla società, dal mondo, ogni tanto prende le distanze, anzi, il mondo le mette un po' tensione. L'antisociale è proprio quello che va contro, cioè quello che infrange la legge su piccole o grandi cose. No, sono molto invece rispettoso. Ecco, nel mondo reale sono molto rispettoso delle regole, della legge e di quello che è stato stabilito, che è la legge. Però nel mondo della mia creatività faccio quello che mi pare, cioè sovverto, cambio, costruisco, ribalto, destrutturo. Forse è proprio questo, l'equilibrio, cioè è estremamente rispettoso nel mondo fisico ed è estremamente matto nel mondo della mia creatività. Quindi, tornando alla domanda che lei mi ha posto all'inizio di questa seduta, se fosse affetto da qualche disturbo mentale, in realtà la dimostrazione è quello che abbiamo appena detto. Non c'è alcun disturbo mentale. Certamente, come persona creativa, ha una serie di conflitti che ancora deve gestire, forse varrebbe la pena riprenderli, ma certamente non c'è nulla. Se proprio dovessi tirar fuori una diagnosi per lei, la definirei un disturbo di personalità Nass. Nass? Nass sta per un altrimenti specificato e quindi le restituirei ancora una risposta non chiara, non precisa, non univoca. Devo dire che naturalmente non trovo in lei nessun disturbo eclatante anche perché chi soffre di disturbi, perché c'è questo vecchio binomio inscindibile che sembra tra follia e creatività che è una bufala assolutamente da cancellare perché ovviamente sarà banale, ma chi sta male è talmente autocentrato e desideroso di star meglio. Per cui direi di fermarci qui, non ci sono alcuni, alcun problema. Quindi non sono, non ho un disturbo di personalità che mi permette di fare il lavoro che faccio. Diciamo che lei ha trovato il modo di, lo direi in linguaggio tecnico, di sublimare, cioè di prendere tutte le difficoltà piccole e grandi comprensibili e girarle e utilizzarle per creare qualcosa di artistico, di creativo, di superiore. E questo è una delle modalità più... Quindi la mia cura è il mio lavoro, in un certo senso? La sua cura è sicuramente il lavoro, certamente forse qualche seduta le farebbe male. Per cui... Quindi devo tornare? Direi che dopo domani mattina andrebbe bene. Cioè non sono pazzo, però devo tornare? Ma diciamo che forse sarebbe il caso. Va bene. Grazie. Grazie a lei. Va bene. Grazie. Grazie.